Aspetta, quello metti l'opinano. Ah, quello assomiglia a te. Quello! Se tu guardi, non riesco neanche a zoom. Hai gli occhi come i tuoi. Se tu guardi, ha le occhiaie, il naso è quello. Sì, vabbè. Anche! La settimana di Ender vi fa male, poi. Quindi questa settimana stai facendo render. Cerco di capire se il colore sta cambiando meno e non ne sono sicuro. Come fai a cambiare il colore? Tramite un nodo che si chiama Color Correct e ci sono vari valori che puoi cambiare. Stiamo facendo lighting e texturing, texturizzando e illuminando questa bella soffitta che ci è una specie divina che viene dall'alto. No, bastanza. Per adesso. Per adesso, è divertente. Certo che è divertente, è la materia più bella del corso. Sei la prima persona a cui non piace fare texturing. Non mi piace. Cioè, non mi piace. Aspetta, lo so perché a lei piace fare literature. Eh sì. Citazioni di un certo livello. Wow. Wow. Per ora siamo qui. Ti fa schifo il cinema, mi pare di aver capito. Non ti piace per niente. Sì, sì, è abbastanza brutto in generale. Ho deciso di fare una stanza partendo da un vestito. Sì. Ho appena creato dei modelli apposta per renderla un po' più interessante. Dovrebbe essere l'ufficio di un detective privato. In fatti qua in fondo si può vedere. Un cappello. Queste sono le mie referenze per la radio. Per la radio. Anni 60-70. E il mode della scena? Incredibili. Wow, incredibili. Penso che il più grande è che mi ha mai redattrice. Quindi non posso fare scrivere queste cose, capisci? Non faremo vedere questo video a tua mamma. No. Così siamo sicuri. No, no, no. Mamma non guarda altro, grazie. Però è la prima che li guarda. Ha messo tipo la campanellina, così arriva il messaggio. Ecco, fate tutti come la mamma di Angelica, mettete la campanellina così arriva il messaggio quando c'è un nuovo video su YouTube. Travi. E mi sto sfidando che mi renderizzi questa porzione per vedere se le scelte che ho fatto sono corrette. Solo che ho un po' le luci. E quindi... Un po'. Non ho messo troppe luci, luci troppo forti. Non ho messo neanche troppe, ne ho messo... 15. No, 15 no, però 14 sì. 17-18. Ho messo 18 luci. 18 luci perché questa volta... Al terzo giorno. No, ma questa volta abbiamo i soldi finalmente, cioè è come un set vero finalmente. C'è più budget, quindi poi... Più budget, un po' più bisogna spendere, spandere. Quante luci hai messo nella tua scena? No, io poche, guarda, sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 8 luci, va bene. 8 è perfetto. Ci sta, ci sta. Anche lui ne ha messe poche in realtà. Ah, scusa. Poche buone. Non troppe, non troppe. È importante questa cosa, però ve ne accorgerete tra un po'. È importante. Che cosa? Che cosa? No, non ci lasciare così. No. 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 No.